Ma in questo gioco è meglio puntare a uccelli grandi o a uccelli con belle abilità? Chiedi a Fabrizio, lui non solo è un gamer è anche un andrologo se non lo sa lui. Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio dire che cosa ne pensiamo di Wingspan. Questo gioco che l'anno scorso nel momento in cui stiamo realizzando questo video, nel 2019, quando uscì, fece veramente furore. Questo è veramente un gioco che ha avuto un incredibile successo fin da subito. Un successo anche per molti versi inaspettato. Gli stessi produttori di questo gioco, la stessa Stonemaier Games, non si aspettava questo successo. Tanto che dovete ristamparne una nuova edizione, dovete farne una nuova edizione quasi subito, perché andò esaurito quasi immediatamente. Molto probabilmente ci si aspettava un successo minore anche considerando il tema. Sembra un tema un po' di nicchia questo, no? Destinato solamente a appassionati di birdwatching o persone che abbiano fatto studi particolari sulla biologia, sull'etologia, sull'ornitologia. Invece, alla fine, il meccanismo del gioco è talmente perfetto, mi verrebbe da dire. Il tema è evocato in una maniera così appropriata, così anche piacevole per i non esperti. Ci sono delle illustrazioni bellissime che raffigurano questi uccelli. Anche chi non se ne intende può apprezzare, anzi è forse spinto dall'idea di imparare qualcosa di nuovo. Quindi è un gioco questo amatissimo, è fra i più giocati nel momento in cui vi stiamo parlando su Board Game Geek. Ha già avuto due espansioni, ne sono in programma altre. Noi abbiamo già le prime due espansioni, Europa e European Expansion e Oceania. E ne parleremo in video appositi con i libri, mi raccomando, stai attento a non cadere. Quindi è veramente un gioco amatissimo, fra i più quotati anche su Board Game Geek. E la cosa non stupisce dopo che lo si prova, perché appunto, come ho già accennato, questo gioco ha veramente un meccanismo perfetto. È un gioco di set collection con elementi di engine building. Ed è soprattutto quest'ultimo aspetto a essere interessante. Per giocare, alla fine l'obiettivo ultimo che si ha è riuscire a giocare gli uccelli. Cioè a riuscire a metterli, disporli sulla propria plancia. Più se ne hanno, più si fanno punti, perché ogni volatile conferisce un certo numero di punti. Però attenzione, abbiamo degli obiettivi, degli obiettivi sia personali, sia privati, sia pubblici. Quindi dobbiamo cercare di ottenere, per esempio, volatili che vivano in un certo habitat, facciano un nido di un certo tipo. Insomma, gli obiettivi possono essere molto vari. Però l'aspetto più interessante non è tanto questo. È appunto l'aspetto di engine building. Perché per giocare gli uccelli è necessario pagare cibo. Beh, è necessario averli in mano, quindi è necessario pescare carte dai mazzi, o dal mazzo, oppure dal display, diciamo, dove ci sono sempre tre carte scoperte disponibili. Dobbiamo avere del cibo, perché ogni volta che giochiamo un volatile dobbiamo pagarne il costo in cibo. E poi bisogna anche avere delle uova. Le uova servono per vari scopi, ma diciamo, per giocare i primi uccelli in ogni habitat non servono, ma per giocare i successivi servono. Quindi è necessario anche avere delle uova. Quindi, oltre all'azione di giocare, che ci permette di giocare appunto un volatile, le altre azioni sono procurati cibo, procurati uova, procurati carte. Va bene? Però queste tre azioni diventano progressivamente più potenti man mano che noi abbiamo già giocato dei volatili in una certa area, in un certo habitat, perché ogni azione è collegata a un habitat. Quindi più volatili giochiamo nella foresta e più diventa potente l'azione per procurarsi cibo. Più uccelli abbiamo nel prato, più potente diventa l'azione per deporre uova. Più uccelli abbiamo nell'acqua, più potente diventa l'azione per pescare carte. Questo crea un clash di opzioni veramente interessate, no? Cioè in ogni momento dobbiamo fare scelte fra, come dire, inseguo l'obiettivo pubblico, inseguo l'obiettivo privato, guardo i punti che valgono gli uccelli, perché per esempio, non lo so, questo vale 8 punti, questo vale 0 per dire, va bene? Quindi giocare questo non ci dà nessun punto in sé per sé. Può essere utile per altri motivi, no? Perché fa un certo tipo di nido, perché tiene un certo tipo di uova, ha una certa quantità di uova, perché ha una certa abilità. Quindi cosa ci conviene fare di volta in volta, no? Ci conviene potenziare quell'aspetto del nostro motore di gioco? O inseguire un obiettivo? E quale? Uno degli obiettivi pubblici, uno degli obiettivi privati? Guardiamo solo i punti della carta? Siccome alla fine il gioco non è così largo, leggendo i forum su BoardGameGeek, ho scoperto che una delle house rule, una delle home rule più applicate in questo gioco è allungarlo, cioè giocare un quinto round, no? Dopo i primi quattro ufficiali. Non so se sia una bella idea, perché il gioco è molto ben funzionante con la sua durata standard, diciamo, con la sua durata prevista dai suoi autori. Dicevo, il gioco è relativamente stretto, quindi non potremmo mai raggiungere tutti i nostri obiettivi. Quindi bisogna per forza seguirne uno, due, cercare, forse questa è la cosa più ideale, cercare di, come dire, giocare uccelli che soddisfino più obiettivi possibili, cioè cercare delle sinergie, potremmo dire, fra gli obiettivi, d'accordo? Quindi, come dire, le regole sono molto semplici, avete visto adesso vi ho riassunto il funzionamento del gioco in due minuti, praticamente. O giochi un uccello, o prendi cibo, o deponi uova, o peschi un'altra carta. Fine, va bene? Quindi una di queste quattro azioni devi fare nel tuo turno. L'uccello lo giochi solamente se hai cibo, uova, e se ce l'hai in mano, ovviamente. Quindi sono tutte in qualche modo concatenate fra di loro. Ma a un regolamento così semplice si giustappone un'incredibile variabilità delle situazioni. E questa variabilità è data principalmente, ma non solo, però un elemento importante è la grandissima quantità di carte che il gioco offre. Questo è uno di quei casi in cui la quantità è anche qualità. Sapete che spesso si fa questa contraposizione, no, a livello dialettico, fra qualità e quantità? Beh, questo è uno di quei casi in cui si capisce che questa contraposizione non ha nessun senso, poi, a livello pratico. Perché, o meglio, talvolta non ha nessun senso. Per esempio, in questo caso non ha nessun senso, va bene? Un wingspan con poche carte, con carte con uccelli magari che si ripetono, con abilità che si ripetono continuamente, sarebbe stato un disastro. Questo gioco è così ben riuscito e ha una tale variabilità per la quantità di carte di uccelli implementà presenti nel gioco. Pensate, non ce n'è nessuno che si ripete degli uccelli. Bene, nessuno. Alcune abilità si ripetono, eh. Però, ehm... Fra gli uccelli non ce n'è nessuno che si ripete. Quindi è veramente... Anche solo per questa incredibile quantità di lavoro, proprio di documentazione che deve esserci stata dietro questo gioco, è un prodotto incommiabile, no? Pensate a realizzare tutte queste illustrazioni, mettere flavor text diversi per ogni singolo uccello. Ecco, su questo mi voglio soffermare, perché uno dei motivi per cui io amo così tanto questo gioco è anche il modo in cui è ambientato, in cui è fortemente ambientato. Pur essendo un gioco puramente German, no? Quindi un gioco basato su meccanismi astratti, diciamo, come è tipico, no? Dei giochi, appunto, strategici, diciamo, dei giochi German. Questo gioco è fortissimamente ambientato, perché, per esempio, appunto, ogni uccello ha un suo diverso flavor text che si può leggere durante la partita, va bene? C'è il nome in inglese, o in italiano, a seconda della lingua naturalmente che scegliete, e c'è il nome scientifico, ok? Le abilità dell'uccello sono spessissimo, di ciascun uccello, sono spessissimo collegate alla sua natura. Quindi tu leggi la flavor text e capisci perché quel uccello ha quel tipo di nido, depone quella quantità di uova e ha quell'abilità. Magari va a caccia, oppure permette di ottenere cibo extra, no? Non lo so, magari un uccello che nella sua descrizione ha questo uccello è famoso perché accumula quintali di semi di grano per l'inverno nel suo nido e magari la sua abilità speciale è che ogni volta che lo attivi ti fa ottenere un grano in più, no? Per dire. Quindi è tutto, no? È così soddisfacente questa cosa. A volte basta veramente poco. Non dico che questo sia poco, ok? Ma a volte basta un minimo di creatività, un minimo di pensiero laterale per riuscire a creare una bella ambientazione che ti coinvolge anche in un gioco come questo che alla fine, voglio dire, è un puro e semplice gioco appunto di set collection e di engine building, va bene? Poi fatemi fare un plauso anche alla qualità dei materiali, eh? Noi nel nostro esempio di gioco abbiamo usato anche alcuni elementi upgraded comprati nel sito Meeple Source, però per esempio questa bellissima bird feeder, questa torre di dadi è inclusa nel gioco, le uova sono incluse nel gioco, sono bellissime le plance, c'è questo bellissimo portacarte di plastica e adesso questa è una cosa difficile da descrivere, ma non avete idea di quanto sia soddisfacente toccare questa carta così con questa texture particolare con cui è fatto questo manuale. Poi guardate, non lo so, il tocco, no? Adesso farò un disastro tremendo, ma insomma portate pazienza, guardate il tocco, vedete queste le plance del giocatore poi piegandole per rimettere nella scatola diventano un quaderno, no? Il quaderno dell'ornitologo, del bird watcher, no? Che esce e prende appunti, no? Quindi questi tocchi, no? Sono spesso i tocchi che fanno la differenza fra un buon gioco e un capolavoro. Questo è sicuramente un capolavoro ed è ancora più mirabile l'obiettivo raggiunto dall'autrice Elizabeth Hargrave se pensiamo che questo è il suo primo gioco. Questa è un'opera prima, va bene? È l'opera prima di questa Elizabeth Hargrave, quindi veramente un'opera prima incredibile, pazzesca. Mi verrebbe, cioè, è talmente ben riuscita, ha avuto un successo talmente incredibile questo gioco che sapete, cioè, è quasi troppo. Io se fossi nei panni dell'autrice è un po'... Perché avere un successo incredibile con un'opera prima ti mette in una posizione complicata, eh? È successo a molti artisti, no? Anche nel campo musicale, cinematografico. Cioè, tutte le opere successive che farai saranno destinate a deludere, no? Il momento in cui le tue royalties erano più basse è il momento in cui hai prodotto la tua opera, no? Migliore, quindi... Non lo so, forse intimamente mi roderebbe un po', no? Avere avuto un inizio così incredibile. Però, naturalmente, vabbè, questi sono così discorsi che facciamo a modi divertismon. È un'opera veramente incredibile. Tra l'altro, qui voglio sottolineare un punto, eh? Che secondo me nessun recensore ha mai sottolineato a sufficienza. Io penso e credo che un merito, una parte importante del merito, del successo incredibile che ha avuto questo gioco, pensa... Ah, giusto per ribadire, per spiegare cosa intendiamo quando parliamo di successo incredibile, immagino tutti voi, o quasi tutti, conosciate il gioco Scythe, no? Che è il gioco, il fiorello occhiello, forse, di Stonemaier Games, questa casa di produzione. È un gioco di Jamie Stegmaier, che è lo stesso fondatore, no? Di Stonemaier Games e il produttore, potremmo dire, di Wingspan. Ecco, pensate che Scythe, che pure ha avuto un successo così incredibile, no? Che è ancora giocatissimo, eccetera, ha venduto meno rispetto a Wingspan, ok? Cioè, Wingspan è il gioco di Stonemaier che ha venduto di più, va bene? Quindi pensate che successo incredibile, pur essendo stato anche meno promosso, no? Meno promosso proprio a livello pubblicitario. Quindi pensate che raggiungiamo in incredibile. Ecco, quello che stavo dicendo prima è che pur essendo questo gioco firmato solo da Elizabeth Hargrave, nella comunicazione di Jamie Stegmaier, del produttore, nelle sue dirette Facebook, in alcune sue mailing list, Jamie ha fatto capire di averci messo lo zampino parecchio. in più di un'occasione per esempio ha spiegato che il gioco per come gli era stato presentato era puramente e semplicemente un gioco di set collection. Non aveva nessuna, nessun elemento di engine building. Ma è proprio l'elemento di engine building a rendere questo gioco così interessante. Quindi, non per disconoscere il ruolo che ha avuto Elizabeth Hargrave senza la cui passione, senza il cui impegno questo gioco non avrebbe mai visto la luce, ma penso che si debba considerare in fase di giudizio anche questo, anche il fatto che questo gioco è quello che è anche perché ha avuto una certa produzione e anche perché il produttore è un rinomato autore di giochi che ha saputo trasformare il gioco che gli era stato presentato nel capolavoro che è. No, forse così suona male. Che ha saputo aggiungere a quel gioco già eccezionale che gli era stato presentato elementi che l'hanno portato a un livello ancora più alto. Ecco, questo per dare anche una lettura a livello proprio autorale più approfondita. Chiudo con un'ultima osservazione. Aspetta, uno degli elementi che mi hanno colpito di più, cioè uno degli elementi che rendono più interessante questo gioco è il fatto che i round diventano più corti man mano che si va avanti. Il gioco è diviso in quattro round. Nel primo abbiamo otto mosse perché abbiamo otto pedine a disposizione da utilizzare nei nostri turni. Nei round successivi ne abbiamo progressivamente una di meno perché una pedina dobbiamo usarla per tracciare i risultati riguardanti gli obiettivi di fine round. Questa è un'ottima idea perché rende il gioco più largo all'inizio e progressivamente più stretto. Va bene? Quindi all'inizio abbiamo un po' più libertà di sperimentare ma questa libertà viene progressivamente meno man mano che il gioco prosegue. ci costringe il gioco a focalizzare sempre di più il nostro obiettivo. È molto interessante perché in un altro gioco che amo molto e di cui parleremo che si chiama Everdell probabilmente lo conoscete c'è il meccanismo contrario. In Everdell più il gioco prosegue e più si hanno azioni nel corso del round perché il gioco è diviso in quattro stagioni e ogni volta che una stagione finisce si deve si recuperano si prendono delle pedine in più rispetto a quelle che si avevano inizialmente. È molto interessante questo fatto perché in Everdell questo ti dà soddisfazione perché sembra essere parte del tuo engine building. Cioè sto costruendo un motore che mi permette anche di avere sempre più azioni nei turni nei turni che seguono. Oddio stavo per ammazzare definitivamente questo povero colibri. E qui invece come dire sto costruendo il mio motore ma il mio motore ma i meccanismi del gioco mi costringono a focalizzarmi sempre di più. Cioè trovo molto interessante il fatto che questi due meccanismi opposti alla fine funzionano alla perfezione nel contesto in cui sono calati. I meccanismi vanno sempre valutati non sulla base di criteri assoluti ma sulla base del contesto in cui si trovano a operare. Trovo che questo dal punto di vista critico sia sempre un approccio incommiabile. Giudicare il prodotto in base a ciò che offre una cosa che diciamo spesso alla maschera riposta cioè giudicare un prodotto in base a come i suoi meccanismi funzionano in quel contesto non giudicare un prodotto come dire spezzettandolo nei suoi meccanismi e giudicando ciascun meccanismo come se fosse un'entità a sé. Ci sono meccanismi che magari sono opposti e che funzionano entrambi alla perfezione perché sono calati di volta in volta in contesti differenti. Avrete capito che Wingspan ci è piaciuto veramente veramente tanto ma vogliamo sapere cosa ne pensate voi anche di questo gioco l'avete provato? Mi raccomando fateci sapere cosa ne pensate scrivetelo nei commenti e se vi piacciono i nostri video seguiteci iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.